Ma perché? Fra si trasforma! Fra si trasforma per forza! Sì, fratello, eccoli, eccoli i smeraldi del caos! Fra, 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 fra! No, fra, 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 fra che cosa cazzo ha fatto? Ma poi, come C'è questa inquadratura, no? Questa scelta registrica con Sonic che gira Fa capire la potenza È proprio Gogeta che Goku e Vegeta si sono appena fusi Guarda, guarda, guarda Fra, è Gogeta che ti dice Fra